Ragazzi buongiorno oggi 21 aprile vi porteremo in Val d'Aosta alle terme di Caracal di pressante di seguiteci ragazzi siamo arrivati sono andato subito a mangiare perchè non ce la facevo più dietro alle mie spalle le montagne ora andiamo in albergo e poi le terme direttamente ci vediamo più tardi e si ora e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Armadio, bagnetto, terrazzino con l'ospito e vista. Allora, tanto che aspetto gli altri, sto facendo un giro Dolon, un paesino dove abbiamo l'albergo, bellissimo, carino, paesino tutto ristrutturato in pietra, bello. Il brodo primordiale. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.